Un laboratorio per preparare arrosticini in un ristorante e un laboratorio cucina di un locale sulla costa teramana chiusi per violazioni in materia igienico-sanitaria e sequestro di oltre 40 kg di alimenti preparati di pesce. Sanzioni per oltre 15.000 euro. Sono i risultati dei controlli dei carabinieri del NAS di Pescara effettuati nel weekend per contrastare il binge drinking. I militari, coordinati dal capitano Domenico Candelli, hanno operato in collaborazione con la compagnia di Giulianova. Obiettivo? Scongiurare la somministrazione di bevande alcoliche a minori. Nell'ambito della verifica delle corrette condizioni igieniche di cucina ed esercizi di ristorazione sono state elevate contravvenzioni a due locali di Giulianova per le cattive condizioni igienico-sanitarie e il mancato rispetto dell'autocontrollo. Chiuso, in collaborazione con la ASL, un laboratorio per la preparazione degli arrosticini a Giulianova. Ad Alba Adriatica, i carabinieri della stazione di Tortoreto e i NAS di Pescara, oltre a giovanissimi che consumavano alcolici, hanno trovato laboratori attivati abusivamente dove si preparavano alimenti. La ASL ne ha disposto la chiusura. Infine, presso un operatore del settore alimentare, sono stati rinvenuti una quarantina di chili di preparati con pesce privi di tracciabilità, con la presenza di mitili anonimi potenzialmente rischiosi per la salute.